Nelle piazze dobbiamo far capire che noi facciamo una politica con il cuore, con la passione, con la determinazione di chi ci tiene al proprio territorio, al proprio futuro, ai propri figli, alle future generazioni. Chiudo con una unica preghiera che faccio a Raffaele e soprattutto all'onorevole di Italia, sperando di essere stato nei 5 minuti, ma credo di sì. L'ha effetto di Raffaele ho pensato molto perché è stato secondo me esorstiente sotto tanti punti di vista. Oggi Forza Italia, due anni fa eravamo 4 amici al bar a parlare di Forza Italia, a trovare anche a pregare a qualcuno di potersi candidati. Oggi invece siamo diventati molti di più e c'è ancora una coda autostradale di gente che sta chiamando tutti i giorni che vuole entrare. Io credo e spero che si faccia tesoro anche di questo tipo di esperienza perché oggi tutti cercheranno di entrare sul caso dei vincitori. Io mi auguro che chi ha messo la faccia, specie nei momenti di grandissima difficoltà di questo partito, sia in qualche maniera adirisata dalla panca sulla spada, sia quantomeno gratificato, rispettato, perché è giusto che come hai detto prima Raffaele ci sia rispetto, lealtà ed onestà in questo partito.